11 febbraio 2016 a Concorezzo in provincia di Monza Abrianza riparte il tour 2016 di infoprogetto.it 62 convegni in 36 città italiane dedicate agli architetti e ai progettisti e che consentono l'acquisizione di crediti formativi concessi dal Consiglio Nazionale dell'Architettura. Tema di oggi il contract, i luoghi del consumo pubblici e privati, contributi prestigiosi da parte delle studi di architettura e interventi tecnici di imprese e protagonisti del settore. Oggi siamo qui a presentare una gamma di prodotti destinati a realizzare la distribuzione elettrica all'interno di edifici ad usuficio o comunque aree ricettive e commerciali. Si tratta di prodotti innovativi dal punto di vista del design e dei materiali utilizzati perché si parla di canalizzazioni sotto pavimento o comunque torrette a scomparsa di nuova concezione che si differenziano da quello che il prodotto comunemente si è utilizzato fino ad oggi per appunto materiali di utilizzo e design che ne caratterizzano comunque l'aspetto e la funzionalità. Bobo Betterman è un'azienda che si rivolge prettamente al mondo elettrotecnico, pertanto diciamo che il target degli architetti non è frequentato abitualmente dai nostri agenti e dai nostri uomini di vendita. Pertanto ci appoggiamo a questo tipo di iniziativa come quella di Action Group che per noi è essenziale per raggiungere anche il target degli architetti e con piacere noto che quando ci presentiamo in queste occasioni con i nostri prodotti gli architetti rimangono piacevolmente colpiti e chiedono informazioni e quindi sono interessati a quello che è l'innovazione tecnologica e l'innovazione del prodotto.